Amici, ci siamo trasferiti, poco vicino alla famosa perrero oramai, da un po' che ne parliamo in questa puntata, cose molto interessanti, siamo all'interno di una miniera, scopriminiera conosciuta non solo in Italia, in tutta Europa, per delle particolarità, alcune andiamo a conoscere, perché qui tutto il mondo è un po' al femminile, come la nostra vice sindaco. Ciao. Piacere Laura. Laura. Allora, un cenno, intanto a quanto dista questa struttura, questa miniera da perrero? Dista all'incirca 10 chilometri, in direzione Prali. Ecco, intanto mi hai dato un cenno fuori onda, dava occupazione sino a quanto tempo? Insomma, era attiva sino all'85, mi pare? Sì, il sito dove siamo in questo momento sì, è stato attivo fino all'85, ma tuttora comunque le miniere di talco sono presenti sul nostro territorio e sono comunque produttive. Ed hanno anche un certo numero di lavoratori, quindi l'occupazione è anche forte rispetto ad altre iniziative? Beh, notoriamente non è più come un tempo quando le miniere occupavano più di 500 o 600, sono arrivate forse anche fino a 700 occupati, adesso sono forse un decimo dei 700 di allora, tuttavia costituiscono ancora una notevole fonte di occupazione, non solo per la valle qui, ma anche per il fondo valle dove sono siti gli impianti di molitori per la macinazione del talco. Come occupazione abbiamo anche un autista donna, e lei dice io guido e suono il clacsono, ma non voglio saperne di intervista, però diciamo il nome, come ti chiami? Io, Susi Pascal. Susi, ecco, è riservata ma molto efficiente, è molto determinata. Allora, una motivazione per i nostri amici che dovevano fare prima tappa a Perrero, per questo è molto importante, si arriva a Scopi Minieri, abbiamo le scuole, tante opportunità di visitare, quindi aperta un po' a vari ceti e anche a età, ecco, è molto interessante. Allora, alcuni buoni motivi per fare tappa a Perrero e per arrivare a Scopi Miniera, in diretta, dillo, Laura, deve far cena perché è preoccupata. I motivi sono tanti, la nostra valle è bellissima da tutti i punti di vista, dal punto di vista naturalistico abbiamo anche dei parchi e poi appunto, come già stato detto, le miniere sono da sempre state per noi un elemento molto importante, e quindi fanno parte proprio della nostra storia. Quindi mi raccomando, se passate di qua, prima tappa a Perrero che è nel fondo valle ed è un centro molto carino e poi risalite tutta la valle perché è tutta da scoprire. Bene, allora dal Borotalco, qui è una miniere di talco, io stavo dicendo Borotalco, noi stiamo chiudendo questa parte, diciamo, di visione del territorio e andiamo poi così nella serata dove mangiamo poi tutti assieme, ci divertiamo quindi anche varie opportunità di divertimento qui a Perrero ed intorno. Sindaco? E solo all'inizio di questo percorso si è stata veramente una guida... Siamo stati ben guidati. È inefficiente, non probabilmente. Meno male che è inefficiente. Grazie. Grazie.